Puntare su fortezza, discernimento e fiducia per essere significativi e controcorrente, riscoprendo ciò che conta veramente a partire dalla famiglia cristiana. Questo è il messaggio che Monsignor Riccardo Fontana ha voluto lasciare a conclusione della sua visita pastorale nel vicariato di Foiano, Lucignano e Marciano della Chiana, in vista del Sinodo Diocesano che si avvierà il prossimo anno. La nostra chiesa diocesana sta andando a Sinodo dopo 82 anni nel tentativo di rinnovare. Ma rinnovare cosa? Ditemelo voi. Sono venuto ad ascoltare e ho ascoltato molto, molte cose in questo mese. Un mese intenso quello che Monsignor Fontana si lascia alle spalle, fatto di incontri sia di carattere pubblico che privato per incontrare anziani, malati e chi è in difficoltà. Una fitta rete di appuntamenti con le tante comunità che animano questa porzione di Val di Chiana, tra parrocchie, animatori, istituzioni e scuole, per mettersi in ascolto e leggere insieme i segni dei tempi. Agire contro corrente so bene che comporta disturbo per chi ci agisce e per chi ti guarda. Ma se noi cristiani non abbiamo il coraggio di andare contro corrente, non cambia niente. Mi appello ai giovani.